Proseguono i nostri incontri con il movimento politico Libertas. La mission di Luigi Abate Production and Communication della mia azienda è quella di garantire sempre il pluralismo alle varie forze politiche affinché attraverso questi schermi, attraverso i social, possano esprimere la propria offerta politica. Ci stiamo occupando con esponenti nazionali e locali del movimento politico Libertas. Dopo aver ascoltato il presidente nazionale e il segretario nazionale, eccoci con il segretario politico provinciale per quanto riguarda la provincia di Taranto, mi riferisco a Federico Greco. Greco intanto la conosciamo come imprenditore, già è stato presidente di Assomarmo, un imprenditore che vuole dare il proprio contributo alla cosa pubblica. Parliamo intanto di lei, ci dia altre spiegazioni e poi i motivi che l'hanno indotta a sposare il progetto di Libertas. Ma guarda, come imprenditore non potevo non sposare il programma politico di Libertas, per il semplice motivo che comunque il programma politico è imperdiato su un tema basilare, il lavoro. Quel lavoro che oramai, oggigiorno, manca in tantissime famiglie. Quel lavoro che da artigiano e da piccolo imprenditore mi accolgo che quotidianamente va sempre diminuendo, sia in termini di commesse proprio di aziende artigiane, ma soprattutto in termini di unità lavorative occupate. Qui su Taranto viviamo essenzialmente di sussidi, le imprese commerciali chiudono, gli artigiani sono costretti ad abbassare le salve cinesche dei propri opifici. Non si può assolutamente più andare avanti in queste condizioni, non ci dobbiamo e non ci possiamo permettere assolutamente un futuro legato a redditi di cittadinanza pindarici e roba varia. Ecco il motivo per il quale, da imprenditore, ovviamente devo dare il mio porto alla mia terra, alla mia città. Ecco, consideriamo la realtà di Taranto. Quando parliamo di Taranto, parliamo di, una volta si chiamava Ilva, fino a qualche mese fa, orarse l'ormittal, ma come dire, siamo sempre lì. E da un lato questa monocultura dell'acciaio, dall'altro però tante altre risorse alternative che il territorio offre. Finora purtroppo queste risorse, la classe politica non è stata in grado di sfruttare, di valorizzare e poi siamo sempre al solito ricatto occupazionale dell'acciaio. Ma, guarda, i problemi sono molteplici. Sicuramente abbiamo avuto fino a questo momento una classe politica non luggimirante, che ha preferito l'uovo oggi alla gallina domani e sicuramente non si è fatto assolutamente nulla per cercare di far comprendere ai cittadini tarantini che non tutti possono lavorare presso l'Ilva o dietro la Mittal, non tutti possono lavorare presso il comune, ma comunque ci deve essere una diversificazione della propria attività lavorativa. Quindi ci devono essere gli altigiani, ci devono essere i commercianti, ci devono essere i professionisti, e ci devono essere ovviamente anche i lavoratori pubblici e i lavoratori della grande impresa. A patto che la grande impresa comunque non vada a detorpare il territorio tarantino. Come purtroppo è accaduto. Come purtroppo è accaduto. Quindi io volevo sicuramente mettere di fronte i due casi. Se fosse stato un piccolo altigiano a combinare tutto il casotto che ha combinato i Talsider, Ilva e Ilva, quell'attività starebbe lavorando ancora? Io credo di no. Avrebbe avuto i sigilli chissà da quanto. Infatti, avrebbe avuto i sigilli chissà da quanto. Invece, in Italia, si sono fatti ben 12 decreti salva Ilva, dichiarati tra l'altro incostituzionali, per salvare un'attività che oramai è un colabbrodo. Perché non si riesce a preservare l'incolumità dei propri lavoratori. Ma di cosa stiamo parlando? In questo scenario ci sono ovviamente nienti, i soggetti istituzionalmente preposti. Parliamo della situazione di Taranto e potremmo allargarla alla Puglia. Le responsabilità del Governo, le responsabilità dei nostri parlamentari e dei parlamentari di Terra Ionica, il ruolo della Regione. Poi scenderemo a livello locale, perché poi anche province comune, quantomeno, gli enti proprio locali dovrebbero avere una funzione di impulso, di preparazione del terreno affinché un imprenditore possa agire, operare in una realtà appetibile. Caro Luigi, io mi scontro sempre con i vari amministratori locali, perché dicono semplice, un comune non può assolutamente fare da volano per quanto riguarda l'economia territoriale. Il comune si deve limitare all'amministrazione. Non è assolutamente vero, perché se amministri comunque devi essere lungimirante per riuscire a comprendere la tua città verso che via andrà. Cosa che non è stata fatta assolutamente a livello locale. Poi, diciamo per quanto riguarda il discorso nazionale e regionale, Io ho l'impressione, visto comunque anche alcuni documenti arrivati ieri, che sicuramente Taranto non è assolutamente ben vista, né a livello nazionale né a livello regionale. Il motivo, sinceramente, non riesco assolutamente a comprenderlo. Forse ci sono tantissime opportunità che Taranto potrebbe avere rispetto ad altre città. Quindi si tende a tenere bloccata una città per far sviluppare altre? Non lo so, sinceramente. Però la parvenza che si ha è proprio questa. Ecco, forse c'è anche un altro problema, la inadeguatezza della classe politica lato senso intesa. Cioè, nel senso che i nostri rappresentanti locali o comunque rappresentativi del territorio eletti qui a Taranto, a livello nazionale, a livello regionale, non hanno avuto e non hanno la forza di far rispettare Taranto. Perché una Taranto negletta, abbandonata, quella caricatura di un aeroporto pronto, con una pista deputata ai voli intercontinentali, come l'Arlotta, dinanzi a queste situazioni, dinanzi a realtà che potrebbero decollare, parlando proprio di aeroporto, qui si vede proprio l'insipienza della classe politica. Cioè, anni e anni, decenni, per far sì che le nostre risorse non vengano minimamente valorizzate. L'esempio dell'aeroporto e l'incapacità di alzare la voce per certe situazioni è la prova provata, è l'emblema di questa incapacità. Proprio per questo ti dicevo prima, si ha la parvenza che sicuramente si voglia tenere Taranto bloccata in un angolo. Se pensi che comunque l'aeroporto, che ha una pista adatta all'atterraggio degli aerei intercontinentali, del continentale, comunque è un aeroporto di fatto chiuso, non utilizzato, ma usato essenzialmente per il carico di parte della fusoliera fatta da Leonardo, e questo ti lascia sicuramente essere fatto. Ma ancora peggio è il non aver assolutamente pensato ad adeguare praticamente l'aeroporto ai voli. Perché se tu pensi, sì è vero, abbiamo una pista lunghissima, ma non abbiamo la capacità di far spostare gli aerei all'interno dell'aeroporto, ed è capitato qualche giorno fa, è dovuto rientrare l'aereo trasporto della Leonardo, è dovuto rientrare a Grottaglie per problemi tecnici, è arrivato un altro aereo, non c'era la possibilità praticamente di movimento, hanno dovuto chiudere completamente l'aeroporto, perché non c'era assolutamente possibilità di movimento dei due aerei. Questo significa non aver fatto assolutamente nulla. in fase progettuale e sicuramente in fase operativa, a favore sicuramente dell'aeroporto. Cosa si sente di dire sui colleghi imprenditori? Perché vediamo che la realtà ionica, la realtà pugliese, è davvero disperata. Parliamo di Taranto e vediamo attività commerciali storiche che chiudono tante zone del centro di Taranto che sembrano ridotte alle ultime periferie, con tutte le saracinesche chiuse. Un imprenditore, cosa dice un imprenditore di Taranto per far sì che resti sul territorio e lotti sul territorio anziché magari darsi per vinto? Io quasi quotidianamente mi incontro con i miei colleghi artigiani, con i miei colleghi piccoli imprenditori. L'unica cosa che mi viene da dire è sicuramente, a parte l'avvicinanza personale ai vari problemi che bisogna sicuramente risolvere, e quella sicuramente di non demordere, di non farsi prendere sicuramente dallo sconforto e cercare di andare avanti attendendo tempi migliori ma nello stesso tempo lavorare affinché quei tempi possano arrivare. Il mio ingresso in Libertas è stato dettato essenzialmente da questo stato di animo. Non posso assolutamente permettere altre chiusure di attività da parte di piccoli imprenditori, che comunque nel momento in cui lo fanno non sono assolutamente da biasimare perché portare avanti un'attività non è assolutamente facile, visti i vari balzelli fiscali esistenti, visti comunque il carico fiscale esistente sui piccoli imprenditori, non è assolutamente facile, ma bisogna sicuramente tener duro affinché possiamo dare un volto diverso alla nostra amata talent. Allora, siamo quasi al momento dei saluti con Federico Greco. Come avvicinarsi al movimento, sia a livello locale sia a livello nazionale? A livello locale sicuramente c'è una pagina Facebook, Movimento Politico Libertas Taranto. Il mio numero di telefono è oramai diventato di pubblico dominio, quindi mi possono contattare tranquillamente i vari avventori e comunque sostenitori, sia a livello tarantino che a livello regionale. a livello nazionale c'è il sito www.movimento-libertas.org e quindi da lì tutti i contatti per chi volesse avvicinarsi, iscriversi, partecipare. Certo, basta comunque collegarsi al sito internet. Cioè, sia a livello locale la pagina Facebook, il sito lo abbiamo menzionato, quindi le possibilità di accesso. L'ultimo appello, perché iscriversi a Libertas? Iscrivendosi a Libertas comunque si sposa il programma del lavoro. Ecco perché bisogna iscriversi, essere in tanti, perché bisogna far capire che comunque il lavoro è basilare in una società. Il lavoro permette di potersi formare una famiglia, permette di crescere, permette di vivere in una determinata maniera. E quindi più siamo e più facciamo capire che abbiamo bisogno del lavoro e non dei vari redditi di cittadinanza, e più possiamo finalmente arrivare a un traguardo che può essere più vicino. Bene, termina qui il nostro incontro con Federico Greco, segretario politico provinciale di Taranto appunto del movimento politico Libertas. Avremo modo di confrontarci ancora successivamente con altri esponenti anche di Libertas, anche per monitorare un po' nei mesi i movimenti, le azioni sul territorio a livello nazionale di Libertas e alla luce degli scenari politici nazionali e locali che si susseguiranno. Questo in un'ottica appunto di pluralismo, nell'ottica di dare voce e spazio a tutte le forze politiche. Grazie a tutti.